Dopo il successo elettorale alle comunali di domenica scorsa, alla luce dell'oltre 35% di consensi ottenuti, il nuovo sindaco di Margherita di Savoia, Bernardo Lodispoto, e la sua amministrazione sono pronti a mettersi al lavoro. Il primo cittadino ha firmato nella giornata di ieri i decreti di nomina degli assessori della Giunta con l'attribuzione delle relative deleghe. Vice sindaco è grazie a Galiotta, alla quale vanno anche le deleghe in materia di attività produttive, commercio, ambiente e turismo. A Ruggero Camporeale va invece quella al personale, polizia locale, politiche comunitari, cooperazione e partenariato. Ad occuparsi di servizi sociosanitari e politiche sociali sarà invece grazie ad Amato, mentre è andata a Salvatore Piazzolla la deleghe in politiche agricole, rapporti e riqualificazione delle periferie, arredo urbano e verde pubblico. Bilancio, finanza e tributi e gestione del patrimonio saranno invece materie di competenza di Francesca Santobuono. Agli altri consiglieri di maggioranza sono state affidate le altre deleghe che in alcuni casi andanno ad implementare quelle già conferite ai nuovi assessori. Welfare, politiche sociali, servizi per l'infanzia e la famiglia ad Adolora Tapatella. Programmazione e controllo di gestione, affari generali e politiche per l'istruzione a Mario Braccia. Salvatore Schiavone si occuperà invece di sport, viabilità, manutenzione strade e di immobili comunali. Politiche giovanili, commercio e promozione del territorio saranno materia di competenza di Sabino Tesoro. A Gianluca di Lecce, infine, le deleghe per sicurezza e legalità, fondi europei e Unione dei Comuni. Il sindaco, Bernadolo Dispoto, ha avvocato a sé le deleghe in materia di lavori pubblici, urbanistica, contenzioso e cultura. Quanto al nuovo presidente del Consiglio Comunale, il designato è Giuseppe Napoletano. La proposta sarà formalizzata in occasione della seduta di insediamento.